let's go butch's e benvenuti a questo video come state vedendo sto giocando a destiny e vi chiederete il perché bene come sapete la stagione di call of duty è finita e fino a novembre non ci sarà niente da fare su code quindi ho deciso di aggiungere un gioco a quello che è la lista dei giochi di cui tratterò sul canale assieme a call of duty black ops 3 voglio trattare destiny come sapete molti di voi che magari mi conoscono giocano con me io gioco ogni tanto adesso mi piace molto come gioco è proprio un gioco che mi appassiona lo stile di gioco un fps misto un mmo un gioco di ruolo di massa online è una cosa che mi piace tantissimo e quindi ho deciso di portare quelli che sono i miei consigli i miei tip i miei gameplay eccetera eccetera su questo fantastico gioco specialmente su quella che è il vero gioco che uscirà il 15 settembre con the taken king che è la vera espansione che farà veramente vedere il vero destiny oltre a questo voglio spiegarvi cosa farò in queste nuove serie ho visto un pochino in giro gli youtube ci sono molti youtuber capaci di destiny quello di cui voglio diciamo io focalizzarmi principalmente è il pvp il croggiolo e voglio focalizzarmi su come poter migliorare cosa che ho fatto anche ovviamente su call of duty le migliori e diciamo setup del personaggio dei talenti le migliori armi quali armi sono delle diciamo buone opzioni rispetto ad altre come sapete ci sarà la patch a breve quindi cercare di scoprire in queste settimane prima della grandissima patch delle armi del 15 settembre delle armi molto buone che potremo portarci sull'espansione trovare delle armi che invece sono alternative ad altre come sapete attualmente si gioca solo con ultima parola aculeo falco lunare morte rossa quelle esotiche primarie che sembrano essere le armi più forti del gioco ma quello che voglio fare io è scoprire delle armi che possono essere utili come loro ma comunque essere un'alternativa ovviamente voglio fare questo principalmente perché ho visto che destiny è un gioco che la gente segue molto quello che fanno gli altri quello che voglio fare io quindi è cambiare il meta cercare un nuovo meta o comunque trovare qualcosa che sia abbastanza divertente funzionale da utilizzare allo stesso modo fare quelli che sono i migliori setup i migliori roll eccetera eccetera delle armi e della classe io spero vi piaccia questa iniziativa su destiny quindi io vi saluto bitches spero vi sia piaciuto questo gameplay let's go bitches ci sarà un colpo ah l'ho ucciso bidon aggressivissimo ragazzi vabbè bidone grazie bidon io non ne trovo nessuno munizioni niente morto stato dietro bravo bidon tornato fatto mancare munizioni un minuto sono munizioni verdi in giro ma rinasconina rinasconina ora dovrebbero rinascere in a si sono rinati qua si 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 che l'ho registrata mi sa che non l'ho registrata mannaggia raga è stata veramente violenza sui bambini questa partita penso se questo è Grazie.